In lungo e in largo nei 91 comuni del collegio uninominale di Sernia-Matese-Frentano senza trascurarne nessuno, neanche quelli più piccoli e quindi meno pesanti dal punto di vista dei numeri elettorali e la campagna elettorale di Mario Pietracupa. Intanto devo dire la soddisfazione di riuscire a coinvolgere ancora i cittadini quindi riuscire a creare ancora emozioni e coinvolgimento sulla politica quindi evidentemente la politica non è poi così da demonizzare come si sta facendo credere in quest'ultimo periodo. Dall'altra parte invece un rammarico, un grande rammarico, quello di non incontrare quasi nessuno che fa lo stesso lavoro. Io sto girando tutti i comuni del Molise, sono pochissime le persone che si mettono in gioco, in tanti si nascondono dietro un simbolo. Non è questa la campagna elettorale, la vera campagna elettorale è quella di mettersi in gioco personalmente, metterci la faccia, andare ovunque. Io vado per raccogliere indicazioni, non per fare il professore e dare lezioni, al contrario vado per dire ai cittadini devo e voglio essere il vostro rappresentante. In questo mio collegio, 91 comuni, vi assicuro ogni comune è diverso dall'altro. Allora bisogna raccogliere le istanze giuste delle amministrazioni e dei cittadini e poi portarle avanti nei limiti del possibile stando vicino alla cittadinanza. 91 comuni con istanze, esigenze, tutte diverse tra di loro, ma come si può riuscire, come un esponente politico può riuscire a fare sintesi per produrre qualcosa di positivo per tutti? Ma guardi, io credo innanzitutto che il problema principale di questa regione, al di là dell'unica istanza che è un comune denominatore, quella del lavoro, che manca, quindi su questo siamo d'accordo, ma il lavoro non è che piove dall'alto, il lavoro si crea, si può creare anche con un po' di fantasia e un po' di inventiva. Prima di tutto è restare uniti, restare molisani, perché è in discussione anche l'unità della regione, quindi guai se noi perdessimo questa opportunità, c'è qualcuno che vuole spacchettarci, vuole venderci al migliore offerente. Uno dei temi centrali del programma del candidato di Forza Italia alla Camera, legato anche alla pregressa esperienza dirigenziale in diversi istituti di credito, riguarda la creazione di un sistema di credito diffuso formato da banche locali affinché il denaro dei molisani vada ai molisani. Bisogna tornare, a mio avviso, a promuovere anche quelle realtà locali, perché sanno essere vicine ai cittadini, non fosse atto per un interesse, un interesse diretto, perché crescono se cresce l'economia del posto, l'economia locale. Gli istituti locali sono stati il motore per la crescita economica del Molise negli anni 70-80. Poi si è disperso tutto e questo è stato un danno gravissimo. Non è possibile poi parlare di nuovi investimenti, parlare anche di piccole imprese, parlare di giovani che vogliono dare qualcosa alla propria terra, entrano in banca, li bloccano nel metal detector, non li fanno nemmeno entrare dentro. È una vergogna.